I risultati maturati quest'oggi, 1-1, scusate, X1-2, 1-1-1, 2-2, 1-X, X1-X e poi il risultato di Udinese e Palermo che stanno giocando in questo momento e sono sullo 0-0. La classifica con la Juventus in testa a 27 punti, seguita dal Milan a quota 25, la Fiorentina, terza moneta per lei, 22 punti, Inter 19, poi in coda alla graduatoria troviamo il Parma con 6 punti, il Treviso con 5, Cagliari e Lecce a 4 punti. E adesso eccoci al tennis, nulla da fare per Francesca Schiavone nella finalissima di singolare di Hasselt in Belgio per la tennista milanese, si tratta della terza finale persa quest'anno dopo quelle di Bali con la Davenport e di Mosca con la Pierce. Oggi la Schiavone dall'altra parte della rete aveva la padrone di casa, la belga King Kleisters, contro la quale si è dovuta arrendere dopo un secco 6-2-6-3. Con la finale di Hasselt comunque Francesca Schiavone può salire ancora nel ranking WTA dove occupa attualmente la quindicesima posizione, questo era il match point per la Kleisters. E con questo è tutto, noi vi ringraziamo per averci sin qui seguito, buon proseguimento di serata con i programmi di Rai 1. La flessibilità non è mai stata così emozionante. Nuova Open Zafira da 17.700 euro. Provala dai concessionari Open. Non c'è mare senza canotto, non c'è 12 senza 88. Da oggi quando fai il 12 aggiungi l'88, tutte le informazioni su privati aziende. Non c'è 12 senza 88. Tuo figlio cresce e crescono le sue esigenze. Dal programma nutrizionale Mellin, la frutta grattugiata, tutta frutta fresca, con la consistenza giusta per chi sta diventando grande. Tu aggiungi solo il tuo amore. Mellin, ricerca e nutrizione. Ok Neri, il treno arriva, nell'ultimo vagone c'è l'amore della tua vita e tu corri, corri, le corri incontro. Sì, la scendi e io la bacio. Strai! Ma sei pazzo? Azione! Corri Neri, corri! Treno! Vai col treno! Ma è sto treno! Ma è il treno! Dice che hai ritardo, Otto! Ma come si fa? Un'altra! Come un'altra? Stiamo lavorando a una storia diversa. Per dare più puntualità ai nostri treni e più serenità al vostro viaggio. Ferrovie dello Stato. Viaggiamo verso i prossimi cento anni. Lasciati coccolare dai regalissimi 2006. Caraffa termica, piatti, tazzine, bistecchiera. Tutti nell'elegante ed esclusivo design firmato Buzzini. Regalissimi 2006. Con le merendine Kinder e Ferrero. Lasciati coccolare. Golden Lady. Grande amica. Agente Macera alla lavagna. Senta, mi spieghi perché con la polizza d'oro di alleanza non rischi i miei risparmi. Perché garantisce la scadenza un rendimento minimo del 2%. Il capitale può aumentare ma non può diminuire. Russo, cosa stai dicendo? Sto dicendo che con d'oro di alleanza se ne viene un accidente i suoi familiari prendono il doppio e il triplo del capitale assicurato. Senta Russo invece di suggerire, perché non si fa venire un accidente lei così lo capiamo meglio? Per punizione, a cena con mia foce va. Polizza d'oro di alleanza. Il mio carrello è pieno con soli 30 euro. Lidl conviene sempre. Da domani, strumenti musicali per bambini. Chitarra elettrica con amplificatore e microfono regolabile in altezza a 9,99 euro. Pianola elettronica con microfono, luci e basi musicali pre-registrate a 15,98 euro. Cilè d'uomo a 9,99 euro. Benvenuti! Eccezionalmente è domenica e Affari Tuoi va in onda veramente in una maniera molto molto particolare.